I tabuti io parlo in pace, sa? Se il mio saluto è una battista Anka, Agniù, Gagino, Gagino, Gagino Parandai, Pupu 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 A presto Sì Siamo tutti i nostri amici. Eh! Oh! Maquina Maquini! 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 Oh! Maquini! Oh! Eh! Sponzo Masca! Emane! Signor Romero Neibet Neiborgi! Emane Unione! Emane Unione! Aayчивkomi! Kompito Masca! Aay SFI! Par calibre Emane Unione! Seated chamada! Hori Emane Unione! per il dauro ingeggi 11 ora il voli e avmontat un marco Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti